Oggi voglio mostrarvi un'applicazione di Fotoscan un po' diversa dall'utilizzo solito che se ne fa, quello del rilievo di edifici o di terreni mediante drone. Ve lo mostro con un caso che mi è capitato recentemente. Mi è stato chiesto di progettare e di realizzare dei teli di copertura che dovevano andare a sostituire questi mostrati in foto con poi un motivo floreale sotto forma di rametti che si distendessero lungo i teli in questa direzione qui. Quindi il motivo dei rametti doveva spezzarsi in un punto e continuare sugli altri in questa direzione e non nella direzione del telo. I dati che mi sono stati forniti sono questa foto che vedete delle dimensioni di massima dei travetti che sono larghi 40 e alti 100 mm, quindi 4 cm x 10 e l'interasse dei travetti che mi è stato detto che erano identici di 50 cm. Con questi dati di partenza... Ah, e in più, come dato aggiuntivo, la lunghezza del telo, perché sono stati smontati questi teli, sono stati misurati e la lunghezza del telo mi è stata data come 2,5 m. Da bravo caddista, o diligente caddista, preso rino in questo caso, mi sono fatto lo schema dei quattro teli, la lunghezza l'ho impostata a 2,5 m, mi sono fatto lo schema dei travetti distanziati 50 cm con la varia sezione, ho impostato la sezione dell'andamento del telo e poi sono andato a verificare qualcosa che per me era di fondamentale importanza, perché se non corrispondevano i dati di partenza con la posizione dei travetti, il disegno che io sarei andato a posizionare in questa direzione qui, col motivo floreale, probabilmente la prima campata sarei riuscita a tenerla centrata, le altre invece no, perché ovviamente se le posizioni e le misure non corrispondevano mi sarei ritrovato il disegno decentrato, magari che andava a finire proprio su uno dei travetti. Allora, preso queste informazioni di base, fatto il disegno, ho disegnato lo sviluppo a terra del telo 2,5 m e poi ho sfruttato questa fantastica funzione che ci arrino di poter deformarmi una curva e alla deformazione della curva io posso vedere in rosso come il pannello, il telo che in questo caso è 2,5 m, si distende la deformazione di questa forma qui. E se vedete già dal disegno di partenza che mi ero fatto, una parte del telo di 2,5 m andava fuori, quindi già c'era qualcosa che non mi tornava rispetto alle informazioni che mi erano state date. Poi, visto che avevo questa possibilità di verifica, ho visto quanto il telo doveva appendere affinché sui travetti si potesse distendere, ma questa era una situazione che in realtà secondo me non ritornava. E quindi io mi sono ritrovato con delle informazioni di base che probabilmente non erano corrette e con l'impossibilità di andare avanti e con l'impossibilità anche di contattare il committente perché non lo conosco, questo è un lavoro che mi è arrivato di passaggio. E quindi ho chiesto se c'era la possibilità di effettuare delle foto o un filmato dal quale ricavare delle informazioni geometriche. Quello che mi è stato mandato è stato un filmato che qui vedete... Questo filmato non fa altro che partire dall'inizio di un telo e fare una carrellata piano piano di tutto il telo fino alla fine. Adesso lo velocizzo un po', quindi se vedete l'andamento è un po' sbilenco, però visto che su questo telo c'è molta textura, è abbastanza sporco, qualcosa forse riuscivo a ricavarla. Quindi ho preso il filmato, ho estrapolato dei frame dal filmato, dati in pasto a Photoscan e Photoscan stranamente mi ha restituito le posizioni anche con un errore di allineamento veramente, veramente basso, infatti come orrore medio di riproiezione 0,25 non me lo sarei mai sognato. E a riprova della correttezza di tutto questo, dal filmato si vedeva che l'andamento era sbilenco, e infatti si vede proprio l'andamento ondulatorio della ripresa. Ho fatto tutta la procedura di ricostruzione densa e di ricostruzione della mesh e riproiezione delle foto sulla mesh, ho portato tutto quanto in rino e quello che ho fatto, la prima cosa ovviamente dopo averlo allineato, ho sezionato il modello e ho cercato di capire se le informazioni che Photoscan mi aveva ricostruito erano giuste. Quindi che ho fatto? Mi sono messo in sezione qui, i travetti più o meno, ovviamente il filmato non era il massimo, quindi la ricostruzione non è molto ma molto liscia, però andando a vedere la sezione, più o meno i punti stanno là. Ecco che con questi dati ho impostato, ho cercato di trovare e di semplificare quelli che sono il travetto, che era, l'abbiamo detto, largo 4 cm, scalato tutto il modello in base a 4 cm, lo so che è qualcosa che solitamente non si fa perché scalare un qualcosa di grande rispetto a una misura piccola mi dà un grosso errore, ma dopo che ho fatto questo sono andato a misurare gli intervalli e ho scoperto che la misura che mi era stata data, quella di 50 cm, era giusta, ma era solo per una campata. Le altre campate, se vedete, sono 45 cm, 47 cm, 45 cm e 45 cm. Questo già mi ha fatto sperare che stavo sulla buona strada perché probabilmente quando hanno posizionato i travetti, sono partiti da una parte e dall'altra, hanno impostato una campata di 45, 45 da destra e sinistra e quella centrale che gli è rimasta è rimasta da 50, o probabilmente hanno impostato quella a 50 e poi sono andati a sinistra e a destra. Un'altra cosa che non mi ritornava però era la posizione orizzontale dei travetti perché non erano assolutamente allineati sull'orizzontale. Quindi ho tirato una serie di linee orizzontali e mi sono accorto che la posizione dei travetti si sfalsa l'uno dall'altro di 2,5 cm. Quindi è una posizione sfalsata che in realtà è costante, quindi è sempre costante anche se ha posizioni diverse. E questo 2,5 cm in realtà me lo ritrovo. Quindi questo allineamento qui del primo travetto me lo ritrovo allineato. No, in questo caso su nessuno però c'è sempre questo range. Fatto questa cosa qui semplicemente mi sono ridisegnato quindi le posizioni in maniera corretta e questo mi ha consentito di continuare a lavorare sullo schema perché adesso lo schema delle posizioni dei travetti sono diciamo giuste e in realtà probabilmente quando andrò a progettare tutto quanto il telo sicuramente la situazione sarà migliore di questa che mi era stata prospettata con semplici dati. Ecco che mi interessava farvi vedere questa applicazione un po' strana di Photoscan che però mi ha consentito di, con un semplice filmato, questo filmato è in full HD non ha nemmeno chi sa che grande risoluzione, di avere misure un po' più vicine alla realtà. Ovviamente mi aspetto che ci siano degli scarti, degli sbagli o altro adesso però so anche cosa chiedere, quindi se ho dei dubbi sulle altezze o altro chiederò maggiori informazioni per verificare perfettamente i dati che ho adesso a disposizione. L'ulteriore poi riprova della correttezza di quello che ho ricostruito io vedo che qua il telo è agganciato su questo primo travetto, poi continua e poi qui alla fine non arriva fino all'ultimo ma si ferma e poi è stato agganciato con delle corde. Se io vado nello schemino mio e riposiziono le travi che ho ricostruito e rifaccio lo stesso giochetto di prendere quel famoso due metri e mezzo e lo ridistendo secondo uno schema alternato io vedo che il telo finisce prima dell'ultimo proprio come in questo caso finiva in questa posizione anzi se vado a vedere da qui a qui ho 14 centimetri e mezzo se vado qui e vado a misurare ho uno scarto di 5 centimetri perché qua sono 10 centimetri ma probabilmente è dato da come è disteso e dal fatto che questo telo è più elastico mentre poi quello che devo andare a fare io non è elastico trattandosi di i mesh quindi c'è qualche tensione, qualche deformazione secondo me sono sulla giusta strada grazie